Sei una onlus, un partito politico o un'associazione di promozione sociale? Grazie a un accordo tra Comitato Regionale per le Telecomunicazioni del Piemonte ed il Centro di Produzione TV Rai, puoi disporre di uno spazio gratuito autogestito sulla televisione di Stato. Il bando, disponibile sul sito internet del Consiglio Regionale, nella sezione dedicata al Corecom, scade il prossimo 28 febbraio. I programmi devono essere prodotti in lingua italiana e possono essere realizzati in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della Stade Regionale della Rai.